buongiorno allora dopo aver preparato a fila li trasmette alle fasi successiva chiamata cat e maestri russell john di questo processo vengono chiamate nella tradizione di cacci cacci cosa sta facendo indosso tutta la fascia del filo su questa macchina macchina ferro struttura la stand poi questi è il bastone dell'egno chi separa il fuso grande composto da cento fasci in piccoli ogni fascio attraversa questi buchi sul bastone dell'egno e questo processo prepara tutto il film per la fase successiva la fase del disegno questo processo è strettamente collegato al processo del gula dove fili si preparano alla tessatura scusato allora la mia brutta lingua italiano grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti